avvicinandosi la festa della mamma ho pensato di presentarvi cinque libri che parlano di maternità ovviamente non la maternità che festeggiamo nella festa della mamma di solito quindi una maternità amorevole e di quelle che ci immaginiamo dell'affetto della madre per i figli di un affetto spesso ricambiato ovviamente se festeggiamo questa questa ricorrenza invece qui parliamo di maternità in maniera diversa maternità magari anche difficili incomprensioni diversi modi di vedere la maternità a seconda dei romanzi di cui vi parlo sono cinque come vi dicevo di cui due cartacei un ebook e due audiolibri tra l'altro due audio libri di autrici italiane anche in un certo qual modo secondo me che dialogano l'uno con l'altro ma ne parliamo quando ci arriviamo parto dal più vecchio di tutti quindi un classico di cui avete sentito parlare in innumerevoli situazioni non da me però però un libro molto famoso sto parlando di il ballo di renne miroschi renne miroschi fu un'autrice che non rapporto molto conflittuale con la madre una donna di alta società bellissima con un terrore di invecchiare e che è stata una madre matrigna nonostante fosse appunto una madre naturale e che con la quale appunto rapporto fu molto conflittuale e la che rifiutò anche di accogliere le figlie di nemi roschi quando nemi roschi fu deportata e proprio una donna di un carattere terribile che è spesso poi tornata nei suoi romanzi e qui abbiamo appunto questo rapporto conflittuale madre figlia ci troviamo in una famiglia di arricchiti scusate oggi non fa altro che partire all'armi non si sopporta ho chiuso la porta spero che non si senta più dicevamo che fu questo rapporto conflittuale fu all'origine di molti testi dell'autrice e questo anche parla appunto di una famiglia di arricchiti che cerca di entrare nelle grazie del bel mondo parigino loro soldi non gliene mancano ma mi mancano le conoscenze giuste quindi decidono di dare una grande festa per accogliere tutti le persone che contano e che si aspettano verranno incuriositi dalla casa nuova da questa famiglia appena arrivata e dall'accoglienza che loro potranno offrire proprio grazie al loro disponibilità economica hanno una figlia adolescente credo che abbia sui 12 13 anni che la madre tenta sempre di trattare un po come una bambolina come un oggetto come un qualcosa che non deve dare fastidio che si deve adeguare a questo atteggiamento da parvenu che al di là del fatto di essere arricchiti che questo non c'è niente di male però proprio di cercare la conoscenza l'amicizia di quelli che contano l'insincerità proprio delle loro relazioni che poi porterà la figlia a vendicarsi non vi dico come perché se non avete letto il libro è abbastanza sorprendente io che l'ho letto in una sera perché come potete vedere questo non è solo il più antico tra tutti i libri di cui vi parlo ma anche il più piccolino e sottile e forse uno dei più belli appunto la figlia si vendicherà di questa madre non curante desiderosa soltanto di arricchirsi e di mostrarsi per quello che non è la scrittura è affilata e tagliente ma non priva di sensibilità molto consigliata e tra l'altro può essere anche un buon approccio con l'autrice devo dire che dopo la sua riscoperta se ne è parlato parecchio ma adesso un po caduta nel dimenticatoio non dimentichiamo ne miroschi perché è assolutamente un'autrice di grande valore poi passerei ai due audiolibri italiani che secondo me appunto dialogano tra di loro perché si parla di una maternità diciamo per interposta persona il primo di questi è a cabadora che di michela murgia la conoscete la storia la storia di una ragazzina siamo in sardegna che i genitori non possono mantenere perché hanno tanti figli e che quindi viene richiesta da quella figura del paese che viene chiamata a cabadora che accoglierà questa protagonista come una figlia e la crescerà mandandola a scuola permettendole di avere una vita tranquilla e serena appunto e con avendo l'affetto di una persona non più giovane che potrebbe appunto essere sua madre quando per sua madre non era rimasto più la capacità di nutrirla e di darle tutte le attenzioni che invece in una vita tra virgolette di figlia unica ottiene però a cabadora è come dice la parola una donna che pone fine alla vita delle persone che non possono non riescono più a vivere perché soffrono tra trocci tormenti sono molto malate però lei lo fa solo e soltanto quando è certo che non ci sia nessuna speranza di vita che le persone non hanno più che stanno soffrendo terribilmente non il semplice malato o quelli che vogliono essere tolti di mezzo dalla famiglia infatti ci sarà una scena in cui viene chiamata al capezzale di un malato e lei si rende conto che in realtà è la famiglia che l'ha chiamata perché vorrebbe semplicemente accaparrarsi le proprietà dell'anziano anche moribondo sì ma non così vicino al limite da avere la necessità della cabadora la relazione che si sviluppa tra la giovane donna e la cabadora è quella proprio tipica di madre e figlia nonostante non ci sia un legame di sangue questo anche con il dissenso che si può venire a creare tra una madre e una figlia e che porteranno allo scioglimento del legame in maniera improvvisa e forte circa metà romanzo non vi dico altro perché mi sembra di avervi già detto molto se non avete letto a cabadora potrebbe essere un buon modo per leggere di maternità alternativa nel senso che di una donna che cresce una persona in questo caso una ragazza come se fosse figlia sua e di una famiglia che ha dovuto rinunciare alla figlia perché non aveva i mezzi per sostentarla e quindi di una rinuncia alla maternità per dare alla ragazza una possibilità migliore ma anche a tutti gli altri della famiglia che restano perché altrimenti non ci sarebbe stato spazio denaro cibo per tutti gli altri che sono rimasti invece in famiglia una storia abbastanza simile e devo dire se non erano tutti e due hanno vinto il campiello forse uno di due lo strega l'altro il campiello quindi dei romanzi famosi pluripremiati una storia di maternità per interposta persona è quella di larminuta una ragazzina che nasce in un paesino sperduto nell'entroterra abruzzese ma che viene ceduta tra virgolette quando è ancora molto piccola a una famiglia di lontani parenti che vivono a pescare che non possono avere figli quindi lei cresce credendo che quella sia la sua famiglia naturale da figlia unica in una casa benestante dove può frequentare una scuola prestigiosa avere le lezioni di danza avere una cara amica una bella casa col giardino e avere tutte le cure che ottengono le figlie uniche quindi senza dover litigare tra virgolette per l'ultimo boccone tra fratelli senza avere magari nessun agio a 12 13 anni la ragazzina viene riportata indietro restituita e quindi ritornata arminuta alla sua famiglia d'origine senza capire perché le dicono semplicemente che sua madre è malata e lei si ritrova in un mondo che non conosce tra fratelli che non aveva mai visto prima in una famiglia povera e oltretutto si ritrova con questa famiglia da cui lei si sente rifiutata perché era stata data via avrà sicuramente un rapporto molto forte con la sorellina minore che è felicissima di avere una sorta di alleata ma questo mondo di paese è completamente diverso da quello che lei aveva conosciuto fino a quel momento quindi c'è miseria la scuola non è di alto livello come quella che lei aveva frequentato e anche il rapporto c'è la gente parla in dialetto non si capisce lei è completamente fuori posto un pesce fuor d'acqua e vuole tornare alla vita precedente e vuole anche capire che cosa sia successo perché nessuno le dice niente perché lei non può più vedere quella che fino a quel momento aveva considerato sua madre mentre la nuova madre che comunque con lei è amorevole affettuosa e anche tutto sommato contenta che lei sia tornata per lei è un'estranea totale e quindi c'è poi tra l'altro questa differenza sociale per questa ragazzina che è sempre stata benestante che all'improvviso si trova buttata nella povertà con questa sconosciuta che per lei è quasi una nemica e in più lei è anche abbastanza studiosa colta e proprio la sarà la sua istruzione a salvarla e in certo quel modo è elevarla da un mondo di miseria non riesce a creare un rapporto con questa donna che nella vita non ha fatto altro che fare figli e non hanno niente in comune quindi è una storia una riflessione interessante sulla maternità su questo modo di gestire la prole numerosa e su un dolore di una ragazzina che scopre che tutto il suo mondo va in frantumi quindi una bella storia secondo me di rapporto madre e figlia anzi madri e figlia perché poi la ragazza scoprirà che cosa è successo e tutto quanto una cosa che quando io sono arrivata a quel punto nell'audiolibro sono rimasta veramente scioccata non mi sembrava una cosa comprensibile comunque una bella lettura che vi consiglio veniamo a un grande romanzo di cui non si parla abbastanza secondo me quando si cita l'autrice che io ho letto un bel po di anni fa potrei dirvi forse vent'anni fa e di cui non ho dei ricordi ultra precisi però mi è rimasta questa sensazione sto parlando di la ballata di isa di magda sabo che racconta proprio un rapporto conflittuale tra madre e figlia abbiamo una madre anziana che ha sempre vissuto in un paesino sperduto in campagna che si ritrova sola dopo la morte dell'amatissimo marito e che si convince a tornare ad andare a vivere con la figlia che è una dottoressa molto stimata che vive a budapest quindi si trasferisce nell'appartamento della figlia dopo che ha sempre vissuto in una sorta di fattoria quindi all'aperto con un tipo di vita di campagna va a vivere in città una città che per lei è un mondo completamente diverso un frastuono l'appartamento piccolo e poi magari tutti gli elettrodomestici che ha la figlia la vita che fa la figlia perché appunto è questa medico in carriera molto stimata ma con dei ritmi di lavoro molto forti e questi due mondi che si incontrano e si scontrano cioè il mondo antico e il mondo moderno che arrivano proprio allo scontro perché la giovane donna è figlia del suo tempo è figlia della modernità ha degli amici con cui vuole passare il suo tempo libero non ha un fidanzato non ha un marito quindi fa una vita completamente diversa da quella della madre la madre che cerca di aiutarla a non so a sgravarle le incombenze ma facendo solo pasticci la figlia che la sgrida perché dice come fai a non capire e quindi c'è proprio questo scontro questa incomunicabilità tra due persone che in realtà sarebbero portate a volersi bene e quindi davvero il disagio della donna quasi incapace di uscire di casa in questa città per lei tentacolare perché appunto nonostante budapest non lo sia adesso ma probabilmente all'epoca di questo romanzo che se non sbaglio è stato scritto negli anni sessanta ancora meno per lei era un mondo assolutamente terrificante un po c'è pleni tempi moderni e quindi il disagio totale l'appartamento la figlia che non la capisce e questa incomunicabilità ma anche la rabbia della figlia che non capisce perché la madre non faccia semplicemente quello che lei le dice senza andare a cucinare sul pentolino cose improbabili che magari poi rischiano di fare fughe di gas e quindi davvero due mondi che si scontrano senza incontrarsi mai è un romanzo molto bello con la pena di sabo molto tagliente affilata e che assolutamente non non usa giri di parole per mostrarci come questa loro rapporto sia assolutamente conflittuale nonostante ci sia l'amore di fondo perché non è che due persone non vanno d'accordo e si odiano e basta qui non vanno d'accordo pur amandosi molto molto bello appunto vi ripeto io l'ho letto quasi una ventina d'anni fa però ancora adesso ricordo di questo aspetto conflittuale di questa incapacità di comunicare tra le due donne dopo tutti questi romanzi europei veniamo finalmente ad un romanzo americano che molto probabilmente conoscerete anche grazie alla serie tv che ne è stata fatta se non sbaglio su netflix di cui ho visto solo la prima puntata poi basta mi sembrava si prendesse un po di libertà rispetto al romanzo ma è giusto così alla fine sono due mezzi diversi e quindi raccontano le cose in maniera diversa questo romanzo che è tanti piccoli fuochi racconta la maternità da diverse angolature la storia è quella di una donna che con la figlia va a vivere in un paesino o comunque una città dove loro in realtà fanno una vita abbastanza nomade si spostano spesso di città in città negli stati uniti la madre cerca un lavoro temporaneo la figlia si iscrive a scuola in più la madre è una fotografa artistica cioè fa oltre a scattare foto le rielabora facendo dei lavori proprio sulle foto magari anche dopo averle sviluppate e poi le spedisce ad una galleria dove spesso vengono vendute e questo permette loro di vivere una vita dignitosa non da ricchi loro hanno pochissimi mobili e praticamente hanno solo una macchina sulla quale si spostano di volta in ma appunto grazie al lavoro della madre che trova sempre e in più alla vendita delle sue fotografie artistiche insomma riescono a tirare avanti e in quell'occasione la madre trova lavoro come signora delle pulizie governante a casa di una famiglia ricca con una casa bellissima tre figli due maschi e una femmina la figlia femmina è un po una scapestrata invece il figlio maschio è il bello della scuola quello a cui riesce tutto il ragazzo di successo pieno di ammiratrici sportivo e quindi una ragazza la figlia della signora delle pulizie comincia a frequentare questa casa e ad entrare sempre più in confidenza con loro noi vediamo soprattutto il rapporto di questo aspetto della maternità appunto tra le due madri perché scopriremo poi non vi voglio dire tanto però scopriremo proprio che hanno una concezione della maternità completamente diversa appunto questa donna che ha lasciato il lavoro la sua carriera di giornalista per sposare un uomo che è ricco che è poi appunto l'ha trasformata in una sorta di quasi casalinga a occuparsi soltanto dei figli che per lei sono il principale obiettivo mentre quest'altra donna da sola senza un marito con un'unica figlia e che ha fatto delle scelte che non vi anticipo ma che nel corso del romanzo verranno svelate pian piano che sono anche alla base del fatto che loro si spostano per gli stati uniti regolarmente senza rimanere fisse in un posto e perché appunto nella storia della madre c'è un passato da nascondere parallela a questa storia c'è la storia di una bambina che è stata abbandonata una bambina figlia di una madre asiatica che era in totale miseria e quindi abbandona la figlia e che viene adottata da una famiglia che non può avere figli una famiglia dana rosa che può garantire a questa bambina un futuro agiato ma la madre che poi tenta di riprendersela che si pente e che vorrebbe riavere indietro la bambina quindi abbiamo questa lotta anche da un punto di vista giuridico su a con chi debba stare la bambina se con la madre naturale se con i genitori adottivi le opinioni che si spaccano in due all'interno dei dibattiti che avvengono all'interno delle varie conversazioni nelle famiglie tra la madre appunto single con la figlia e l'altra donna che è la sua datrice di lavoro secondo me è un modo interessante di parlare di maternità anche se io non sono stata d'accordo con quelle conclusioni che si possono trarre leggendo il romanzo però alla fine giustamente ognuno si fa la propria idea anche mettendosi in discussione leggendo un libro oppure guardando una serie tv e riflettendo poi sulle scelte che vengono compiute all'interno della storia e anche su come invece noi riteniamo che le cose debbano andare secondo la nostra idea non solo di maternità ma anche in generale quindi tutto sommato un romanzo anche abbastanza avvincente che vi consiglio adesso io l'ho letto in ebook quindi non vi posso mostrare come il carattere però si legge facilmente devo dire che dal punto di vista della prosa non è un capolavoro ma si lascia leggere nel senso che non ha uno stile normale non almeno che a me non è rimasto impresso in maniera particolare ma sicuramente ha una scelta di trama e delle soluzioni interessanti per portare il tema all'occhio del lettore e portarlo ad interrogarsi su quali sarebbero state le scelte che lui o lei avrebbero preso nella stessa situazione quindi tutto sommato me lo consiglio anche come romanzo di intrattenimento fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri se vi sono piaciuti se avete visto la serie netflix fino alla fine primo dopo aver letto il libro insomma chiacchieriamo nei commenti spero che abbiate un ottimo rapporto con la vostra madre in generale con la vostra famiglia di origine noi ci rivediamo giovedì prossimo e nel frattempo buone letture a tutti